Ciao a tutti sono Ted Luigi Piacere vengo da Firenze classe 92 mio padre è ristoratore da circa 25 26 anni dopo la ristorazione ha aperto una catena di pizzerie dove io dopo i miei studi ho iniziato a lavorare inizialmente come cameriere ma sono appassionato molto anche l'aspetto pizzeria e ringrazio molto anche la Cinque Stagioni che mi ha dato un grande supporto Grazie a tutti